E bella a tutti natori, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, oggi partiamo dall'auto perché i miei amici mi hanno segnalato ben due ride di Articuno Ombra. Quindi eccoci qua, sono già in auto ben pronto con la cintura allacciata, ma attenzione, ragazzuoli shiny check, super shiny check, attenzione qui, dai, 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 cloucher, cloucherigno, porca miseria, che questo qua secondo me è diventato nido, ragazzuoli, perché appunto, come abbiamo visto in un video precedente, da quando sono tornato da Londra, mi sembrava Zwirlix, ma niente, è il Vulu, attenzione qui altri shiny check, spill, ma è tanto da community dei ragazzuoli, attenzione perché qui ho tenuto questa missione qua, eccolo qua, dobbiamo scegliere il nostro percorso, ragazzuoli, scegli Schermori, scegli Trevenant o scegli Azumarill, io sinceramente, raga, non sono andato a vedere, non mi sono spoilerato il seguito di queste missioni, cosa c'è, eccetera, sinceramente andrei su Schermori, proviamo a Schermori, facciamo Schermori, ragazzuoli, che tanto, con Azumarill addirittura Umbreon, bello, bello, raga, ma io andrei appunto con Schermori, tentiamo, ragazzuoli, non so tanto il PvP, lo sapete che sono veramente un esperto io, qua siamo messi così con le missioni, allora di qua, raga, teoricamente abbiamo preso adesso, allora usciamo e rientriamo, vediamo un attimino, campione, allora vi ho mostrato, raga, ho caricato uno short qua sul canale, dove appunto siamo andati a vedere come riscuotere, come ottenere questi codici promozionali dal sito Viola di Pokémon Go, i codici allenatori sono ben tre, il primo è questo qua, stratega della Lega Mega, secondo campione di Densig Rob, e il terzo, ragazzuoli, quello che invece non bisogna seguire nessuna live per 30 minuti, eccetera, ma c'è solamente il codice promozionale da inserire, che vi dà appunto la maglietta che io l'ho già messa, ragazzuoli, eccola qua, anzi, facciamo così, facciamo così, andiamo sotto il mio avatarigno, eccolo qua con il, bellissima la maglietta che si vede, non si vede ormai così, raga, però con il mano, il mio, con il braccio, il mio sciondino, MacB, ma volevo mostrarvi, raga, cosa ho preso ieri, guardate qua, che spettacolo, Passimian, se carica, dai, allora, cosa succede al gaming questi giorni, ok, 98% di V, raga, porca di quella miseria, non poteva uscire il 100, veramente per un soffietto, eccolo lì, che non mi mostra neanche la posizione, boh, non lo so, raga, cosa succede oggi, andiamo al raid di Articuno. Bomberoni, eccoci qua, allora, sotto il raid ce ne sono due, uno sta anche per schiudere, quindi andiamo, sono in presenza, questi qua che ci stanno scrivendo, invitate, invitate, ma questi raid ombra, ragazzuoli, sono in presenza, quante volte dobbiamo dirlo, entriamo, eccoci qua, 70 secondi più o meno, ma siamo dentro in 5, veramente tantissimi, quasi quasi non vado neanche a fare la mega evoluzione, andiamo così, let's go! Bomberoni, eccolo qua, tirato giù Articuno ombra, attenzione, accingiamoci allo shiny ombra check, qua non sento urli né niente, teoricamente, normale, è normale, andiamo a vederlo, sopra il 17 è abbastanza forte, perché lo trovavamo sempre scarsissimo noi, cacchiarola, oh, ma finalmente anche qua hanno aggiunto la cosa che si può aggiungere gli allenatori, ragazzi, guarda qua, in cerca di amici potrei aggiungere, ma che bellezza, che bello, non siamo neanche amici noi, ma andiamo avanti, però non c'era il tasto pronto, mi sembra che non l'hanno ancora messa questa cosa qui, sicuramente entro fine mese, attenzione, primo, Articuno ombra, dai, 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 no, no, normalissimo, 17,08, ragazzuoli, ecco qua, amici fortunati con Tamira la gnocca, grandissimo, ditegli un po', scrivete nei commenti quale shiny dovrebbe scambiarmi, secondo ride, eccoci già, qua sotto, raga, c'era anche uno scraghe qui già tentati, gli shiny check purtroppo per il momento nulla, pass molto bene, ragazzi, abbiamo preso quello gratis, ce l'ha dato, ottimo, entriamo, entriamo, Articuno che chissà fino a quando rimarrà quest'Articuno ombra, stiamo a caccia, chiaramente, aspettiamo Zaptos e Moltres, anche Tamira la gnocca, vedo che ha messo il nuovo avatar qui, la nuova posa, con questa mappa del tesoro. Ragazzuoli, attenzione, guardate qua che squadra ho formato, quando vado a formare squadre c'è sempre uno scempio, ormai per la missione devo andare a fare un ride con il mio compagno, in questo caso il mio compagno è questo bellissimo Shundo Magby, attenzione, impossibile cosa viene fuori, boh, ok, si è ristabilizzato, tentiamo così, non insultatemi, raga, se vedete dentro il ride un Magby shiny. Secondo ride, ragazzi, eccolo qua, appena tirato giù, vediamo un attimino, dai, dai, sarebbe apprezzato, cacchioralo, un bel Articuno ombra shiny, anche perché ormai non ne faccio, è tantissima, ho trovato lo shiny al primissimo ride, raga, ma poi dopo ne ho fatti veramente pochi, quindi, anche se non si può scambiare, l'ombra non si può scambiare, quindi dai, 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 devo purificarlo. Attenzione, raga, attenzione, 2 minuti e 46 per tirarlo giù, 16, primer, doi, do, che pacco, 16, 84, anche più schifoso di quello di prima. Raga, ho appena aperto la missione di catturare 7 Pokémon e guardate qua, che bellino, cacchiorola, piccolissimo, non shiny, normalissimo, raga, avrei apprezzato lo shiny, veramente spettacolare, eh, questo pica qua dell'evento, dei campionati mondiali attuali. Appunto, se fosse uscito lo shiny super esclusivo. Terzo shiny check di Articuno, raga, eccolo qua, Scliff, appena sconfitto, 9 dorate, 5 frammenti ombra, le dorate molto buone, perché ne ho fatte fuori veramente tantissime, raga, quando eravamo su a Londra, mi scarseggiavano, ero arrivato quasi a zero. Ok, allora, riepilogo, attenzione, shiny ombra check, terzo Articuno di oggi, penso anche l'ultimo, perché oramai, raga, è già stata una cosa eccezionale, ma quando mai, 16.46, ci abbassiamo sempre. Raga, ma io non ci credo, non ci credo, scrivetemi sotto, che shiny ho trovato adesso, 1, 2, 3, eh, vabbè, spill, raga, spill, porca di quella miseriaccia, guardate, vado anche con questa bacca qui, potrei andare con un'altra ball, ma dai, dai, andiamo almeno con Ultra, almeno con Ultra, ecco qua, infatti, che bene, è un Pokémon, raga, da Community Day, quindi ne avrei fatto anche sicuramente a meno. Come si presenta, vediamolo un po', un 100, e magari, magari, preferiti ormai, e l'attenzione, attenzione, non riusciamo a cliccarlo, un Donphan, raga, eccolo qua, un Donphi. Bomberoni, attenzione, guardate che shiny, esclusivo, appena trovato, PAM, eccolo qui, Pika, il Pika, non l'ho trovato adesso, raga, è un gameplay, è un gameplay di ieri sera, praticamente, ma ormai era tardi, e mi hanno invitato, oppure era qua dalle mie zone, comunque, sì, mi avevano invitato, non ricordo, raga, non ricordo, ah, no, da Ginevra, giusto, qui, sì, qua dalla Svizzera, da Ginevra, Sasuke, grazie mille, Sasuke, invito da Ginevra, Ginevra, eccolo qua, Pika shiny, raga, Pika shiny, esclusivissimo, che adesso andiamo anche a vedere una cosa, perché c'è un piccolo bug. Allora, Bomberoni, andiamo un attimino a vedere i miei shiny, shiny, attenzione, cloncher, porca, diamine, non esce mai, non esce mai, attenzione, allora, andiamo a vedere un attimino i miei, eccolo qui, infatti, lo spill, gli shiny, filtro cromatici, guardate qua, allenatori, allora, ci eravamo lasciati, sono tornato, appunto, da quelle di, e le mini rani, sono delle mini rani qui, ragazzoli, con gli ultimi shiny di Londra, raga, che era, appunto, Heracross, eccolo qua, che l'ho messo in palestra per farlo vedere un po' a tutti, poi dopo ho attaccato il mio plus plus, e guardate che cacchio di shiny ho trovato, Starly, Zigzagoon e Machop, dopo, chiaramente, il Pikachu, qua, ragazzoli, l'ho trovato io da ride, infatti, lo vediamo qua, Ginevra, eccolo qua, Ginevra, raga, grazie mille, ancora, ripeto, a Sasuke, Grande Bomberoni, si presentava così, raga, eccolo qua, un due stelle, ma mi va benissimo. E dopo abbiamo trovato anche lo spill poco fa, forse dopo andrò a impiegare, a mettere anche la Roma avventura, raga, caccia di leggendari di Galar, visto che adesso mi manca solamente Articuno, in caso lo avete doppio, fatemi sapere che ci possiamo incontrare al GoFest globale tra qualche settimana, ma andiamo a vedere, raga, questo bug riguardante Pikachu dell'evento, appunto, attuale dei mondiali, dei campionati mondiali, facciamo pica, pica così, allora, vedete, questi qua sono tutti i miei Pikachu shiny, raga, non si nota niente, praticamente è la stessa cosa, ma se clicchiamo sul Pikachu che abbiamo trovato adesso shiny, vedete questo qua, dei mondiali, è normale, cioè, vedete la colorazione, è un Pikachu normalissimo, ha le stelline dello shiny, le si vedono, raga, però non hanno cambiato questo sprite, perché se sguicciamo sull'altro, raga, eccolo qua, vedete gli altri, sono abbronzati, si vede, si nota, raga, che sono un po' leggermente più abbronzati, mentre questo qua no, non l'hanno modificata, secondo me, perché, vedete, così si nota che lo shiny è leggermente abbronzato, ma se clicchiamo su di lui, vedete che non ci fa vedere niente, cioè non è abbronzato, è giallo, normalissimo, e infatti vedete qua la differenza. Per vedere la prova del 9, ecco qui, raga, quelli normali, attenzione, Pikachu shiny, questo qua è lo shiny, lo vedete qua, mentre switchiamo su uno normale, non cambia niente, non cambia niente, raga, quindi attenzione, bomberoni, perché magari vi è uscito questo Pikachu qua, non ci fate caso, magari è andato a trasferirlo, è sempre uno shiny, raga, così lo notate, ma se magari lo vedete così, è normale, è normale, ma date bene occhio. In conclusione, vediamo come siamo messi qua con le missioni, devo andare avanti qui con queste, raga, anche questa qua che le abbiamo prese, le abbiamo prese dai codici promozionali sul sito viola di Pokémon, qua, ok, ok, di cui invece dobbiamo andare avanti, che prima ho provato, raga, ho messo Magby come mio compagno, appunto, ce l'ho già come compagno dentro nella squadra, quando ho fatto un ride di Articuno ombra, ma non me l'ha marcata, non so come mai, dovrò ritentare, raga. Infine, missioncina, missioncina, dai, dai, chi l'è, passi uno shiny e il passo, enorme questo, cacchia, raga, vedete, raga, se fosse uscito shiny è così, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo detto fino adesso, porca miseria, oggi quindi abbiamo trovato uno piccolissimo XXS e questo qua grandissimo XXL. Ora ci rimane solamente da trovare in grandezza lo shiny. Allenatori, io allora adesso continuerò la mia caccia a Pikachu e Scraggy, e voi avete trovato qualcosa di interessante, qualche shiny forte, e siete riusciti, soprattutto, fatemelo sapere, a riscattare i due codici promozionali dei campionati del mondo. E per oggi, Bomberoni, da GamerGio, è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati, e se il video, raga, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. GamerGio vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!